Soprattutto i giovani saranno rivolte a loro gran parte delle misure di controllo e prevenzione in provincia di Chieti. Sono tre le direttive individuate dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, convocato dal prefetto Forgione, le aree limitrofe alle scuole, mezzi pubblici e le vie della Movida, dove sarà rafforzata la presenza delle forze dell'ordine. Devo dire che sia il questore che il comandante pronunciare l'anno dei carabinieri, in particolare si stanno concordando i vari quadranti orari e di zona per poter utilizzare al meglio le nostre pattuglie disponibili. Chi non indossa la mascherina all'aperto rischia molte fino a 3.000 euro, verranno rese obbligatorie sempre e ovunque con il prossimo DPCM. Sotto osservazione gli autobus usati da pendolari e studenti, agenti verranno posizionati alle fermate dove sono stati segnalati assembramenti. Appello a sindaci e gestori del trasporto pubblico ad aumentare le corse, ma non saranno solo azioni di repressione, ma anche di sensibilizzazione a partire dai più giovani, quelli meno lì già rispetto delle regole. Se solo pensassero a qualche mese fa dovrebbero essere loro i primi a pensare di dover tutelare soprattutto le loro famiglie, a cominciare dai nonni che sono quelli più esposti poi.